Questo è Digitalia Un pochino in quella direzione Mi dicevi, no? Hai abbandonato Home Assistant? Allora no, io ho sempre usato Eri Giassus Io ho usato SmartThings da sempre Eri Giassus Io sono stato un po' quello che è successo A tante persone, cioè passi da una domotica Hubless, senza uno hub A una domotica con lo hub E l'ho fatto ormai 4-5 anni fa E lo hub è un modo hardware Di fare in modo che i dispositivi si parlino Fondamentalmente, anche se ormai Non è solo l'hub che fa quel lavoro lì Ma è l'hub più il cloud in generale Per SmartThings È un pochino È una via di mezzo diciamo tra L'ambiente di Apple La casa di Apple dove c'è molto Poco di configurabilità e Molto plug and play Diciamo, e dall'altro Estremo Z-Wave con Appunto, ultra scriptabilità Puoi fare tutto quello che vuoi Molto flessibile, programmabile, eccetera Ma O ci passi del tempo E hai delle capacità Oppure dimentica Te ne lascia stare È vero SmartThings è sempre un po' una via di mezzo Sì, loro vorrebbero Stanno ancora di più Cercando di essere Che è molto ambizioso Non è mica detto che si riescano Stanno cercando di fare Contento Chi vuole Compra un prodotto Se lo mette in casa E vuole che funzioni Basta Di chi invece vuole mettersi lì Fino allo sviluppatore addirittura Che si scrive proprio il codice Con cui i suoi dispositivi lavorano Quindi adesso sta Svivendo una Una grossa evoluzione Una transizione SmartThings Alla nuova piattaforma Che è una transizione Che per certi versi Sta essendo anche dolorosa Perché Stanno rimuovendo Tutto ciò che è stato creato Finora Fondamentalmente In termini di Device Handlers Che sono i driver Se vogliamo chiamarli così Scritti dalla community E anche di Smart App Che sono delle piccole applet Create sempre dalla community Con il vecchio codice Di SmartThings Che era Groovy Che viene usato anche per altre cose Ma io l'ho sempre associato a SmartThings Lo sento usare solo per SmartThings Per passare A una piattaforma Basata su API Molto più standard Dove sviluppatori anche nuovi A questo A questo ambiente Possano investire tempo Senza avere una barriera All'ingresso Dove i produttori In generale Chi vuole associare il suo prodotto A SmartThings Via API Possa farlo Tutto ciò però Senza Quindi creando una serie Di prodotti integrazioni Che siano da un lato Più solidi Più facili Da usare Per chi li vuole solo usare Ma dall'altro Stava guardando Chi invece vuole sviluppare Non sta essendo per niente Una cosa facile No certo Ci vuole Un grosso investimento E anche delle capacità Bisogna avere delle persone Che sono proprio In grado Di costruire un sistema Mi ricordo Leggevo un libro Che parlava Dello sviluppo Di Macintosh E della filosofia C'è proprio un concetto Nel design Non il design Nel senso di Disegno Nella progettazione Di questi strumenti Che si chiama Progressive Disclosure Che vuol dire Che l'utente Quando apre Il suo dispositivo Quando compra L'appliance Quando compra Il frullatore Ha di fronte Una cosa semplicissima Che capisce automaticamente Che deve Tirare sul tappo Infilare dentro Gli ingredienti Chiudere il tappo E girare La manopola Ma man mano Che lo usa Se prova a sfidarsi A fare delle cose in più Scopre che Non lo so La manopola Può anche girarla Un po' di più E quindi c'ha La velocità più Rapida Oppure se lo inclina E vede sotto Magari c'è una regolazione fine E la stessa cosa Dovrebbero seguire Doveva seguire Secondo questa filosofia Lo sviluppo di Mac Che prevedeva Un utilizzo semplicissimo Nel momento in cui Lo aprivi Per l'utente Inesperto Ma poi via via Che l'utente Studiava Leggeva Scopriva Vedeva cose nuove L'esempio classico Sono i menu I menu Con I menu in alto Per ogni Applicazione Con sempre Lo stesso ordine Sempre le stesse cose Negli stessi posti Ma a fianco Un simbolino Con una lettera Che l'utente Da prima apri Non gli serve a niente Riesce a utilizzare Esattamente le stesse cose Ma poi quando si chiede Che cos'è quel simbolino lì Ah già Ce l'ho anche sulla tastiera Mela P Per print Provo a schiacciare Mela P E vedo che faccio la stessa cosa Molto più veloce E quindi ho fatto Un passo avanti E questa cosa qui È quello che dovrebbe Un pochino guidare È anche lo sviluppo Di questi ambienti Di domotica Di automazione Esatto Cosa difficile È sviluppare un'interfaccia Che appunto Me che da quel punto di vista Ovviamente Da insegnare a tutti Che ti guidi Questo percorso Perché SmartThings Un po' c'è là Quella cosa di Tu colleghi la tua luce Colleghi il tuo Sensore di movimento Per dire E trovi L'applicazioncina La smart app La chiamano loro Automazione luce Ci vai dentro Dici Ah bello Posso fare Accendere la luce Se c'è il sensore Rileva il movimento Bellissimo Ok Vediamo se riesco a farlo Con due luci Vediamo se riesco a farlo Con una luce Ma solo se l'altra luce È spenta Inizia a fare Poi arrivi a una barriera E a quel punto Ti fermi Perché hai bisogno Di un rule engine avanzato E nessuno ti dice che esiste Nessuno ti dice che c'è Nessuno ti dice come usarlo Non c'è nessun materiale In italiano In inglese Se ti sbatti Lo trovi nella community E lì insomma C'è una frattura A un certo punto Non è simile Ma per entrare Per aprire questo rule engine Non c'è niente Che lo indichi Nell'interfaccia No Lo trovi nella community Poi se chiedi Te lo dicono Gli appassionati Gli vari utenti Quant'altro Io una delle cose Che faccio è quello Fare Tutorial su questo tema Però Non lo scopri da te Vabbè Veniamo alle novità Di Le novità di casa tua